oggi doppio chilometro potrebbe essere anche un vantaggio per lui allineamento ultimato con il solo Delon Griff un po' distante dalle ali del mezzo meccanico e si va Disabrick Jetta fa subito valere la sua lestezza iniziale da un attacco esterno vehemente di Dododorial e Dododorial passa al comando mentre ha avuto problemi Delon Griff nelle retrovie e finisce con lo sbagliare se ne vanno e finisce anche al tabellone Delon Griff se ne vanno i 200 metri in scattato purtroppo il cronometro in un po' in ritardo e quindi senza parziali questa corsa con Dododorial che è chiaro leader nei confronti di Disabrick Jetta in quarta posizione in terza posizione vediamo Duriba Jetta e in quarta il quattro di Kiki Alor non è praticamente una corsa con andatura si va a passo di caccia con Enrico Antonio Maisto che fa oramai del cronometro la sua arma migliore sta viaggiando sul piede secondo me intorno all'1.20 1.21 ha in schiena sempre Disabrick Jetta in terza posizione Duriba Jetta mentre chiude il gruppetto il quattro di Dikiki Alor si giunge qui davanti alle tribune con il quartetto sempre in fine indiana e senza nessun sussulto a questa corsa andiamoci a vedere però l'ultimo chilometro lo possiamo cronometrare parte in questo momento con chiaro vantaggio Dododorial Disabrick Jetta Duriba Jetta che vuole mettere un po' la testolina di fuori ma sul leggero allungo di Enrico Maisto deve ritornare ma poi Filippo Gallo muove le braccia e viene via e Duriba Jetta va ad attaccare il leader che non si lascia ovviamente avvicinare si trascina sempre per linee interne il 5 di Disabrick Jetta che molto probabilmente è l'avversario da tenersi sempre ben chiuso perché ha uno spunto ficcante ma Duriba Jetta per il momento lo tiene ben chiuso lì sotto lo steccato si avvicina anche il 4 di Dikiki Alor si entra sull'ultima curva con il numero 7 di Dododorial che ora deve allungare attaccato da Duriba Jetta di dentro guadagna anche il 5 di Disabrick Jetta che è un po' perfettibile di camminata ma in retta d'arrivo quando Dodò se ne va Disabrick ha lo spazio ma galoppa in retta d'arrivo ed è Duriba Jetta in seconda posizione che argina l'arrivo anche del numero 4 di Kiki Alor quindi ne arrivano in 3, 7, 6, 4 e l'ordine d'arrivo della prima corsa in programma l'ha vinta C'è però un richiamo della giuria perché devono un po' vedere nel momento in cui sbaglia il numero 1 di De'Longriff se è stato toccato o meno dall'avversario è tutto ciò è tutto Grazie.